Per la rubrica studente all'estero è oggi qui con noi Alessia Garnieri, una studentessa di 21 anni che in Italia frequenta il corso di laurea Scienze della Comunicazione all'Università di Bergamo. Da settembre 2018 ha deciso di andare in Erasmus, quindi è volata a Granada, in Spagna. Alessia, da vera buon gustaglia, apprezza molto il cibo spagnolo, facendo invidia ai suoi amici italiani. Alessia ama cambiare il look dei suoi capelli, in particolare tingerseli di colore rosa. Con la sua partenza si è allontanata dalla sua famiglia e dal suo vincente canecai. Da sempre il suo principale hobby è il ballo, in particolare il flamenco. Mi raccomando Ale, non umiliarli troppo!